I consiglieri di maggioranza di Eboli, Giuseppe Labrocca, Rosaltieri, Cosimina Cennamo, che sostengono l'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Cariello, hanno comunicato l'adesione a un nuovo soggetto politico denominato Movimento Rete Democratica. La decisione di aderire a questo movimento civico-politico, recita la nota stampa, è scaturita dalla necessità di perurare le esigenze dei cittadini, che chiedono sempre di più una politica concreta. Meno parole più fatti, tutti noi abbiamo a cuore il rilancio della città di Eboli attraverso atti che possano far crescere, in termini occupazionali, urbanistici, produttivi, industriali e sociali, il nostro territorio che ha come fulcro il comparto agricolo, vero motore trainante di tutta la piana del Sele. Stiamo riscontrando, conclude la nota, il coinvolgimento di tanti cittadini che si ritrovano nei nostri valori e pertanto a breve costituiremo anche il direttivo del Movimento Rete Democratica.